Costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura. Questo è l'obiettivo portato avanti dalle organizzazioni ambientaliste che hanno fatto il punto a Roma nel corso del convegno, la governance globale dell'ambiente. Bisogna mettere tutto insieme per cercare di salvare questo pianeta. Un pianeta assolutamente unico, anche se il pianeta favoreggia le possibilità di andare in altri pianeti. Bisogna salvare questo pianeta oggi e subito. Un modello volto a proteggere le risorse naturali secondo un criterio di sostenibilità nell'interesse delle generazioni future che coinvolge nelle scelte tutti i soggetti, compresi quelli economici e sociali. Scopo? Tradurre in azioni concrete le tante teorie di sviluppo sostenibile ancora non attuate. La Fondazione ICEF opera da 30 anni, chiede al governo italiano ad alto livello di prendere un'iniziativa politica perché è nata in Italia proprio la Fondazione. A prendere parte all'incontro, tra gli altri, anche l'assessore alla sostenibilità ambientale, Pinuccia Montanari. Credo che il ruolo che l'ICEF, il magistrato Postiglione, Fulco Pratesi e tutti coloro che scientificamente sono qui presenti, penso che il loro contributo è un contributo che noi dobbiamo anche attentamente appunto ascoltare come città di Roma. In una casa abbiamo anche nell'osservatorio Ambiente Salute e Legalità, li abbiamo invitati appunto come presenza importante perché le raccomandazioni che ci vengono da questo punto di vista sono fondamentali per agire nel modo corretto. Necessari e urgenti diventano quindi azioni politiche condivise a livello globale che possano applicare i principi della Green Economy. Grazie a tutti.